Ciao e benvenuta sul mio canale, io sono Irene Vaticano, infermiera IVCLC, specializzata in allattamento, parent coach e mamma di tre bimbe. Ciao e bentornata, se sei già iscritta altrimenti ricordati di iscriverti. Oggi parliamo di come dire di no al seno, o meglio, come dire di no del seno al bambino. Come possiamo chiamarlo questo video? Come riuscire a negare il seno al bambino? Credo che lo intitolerò così perché è difficile da spiegare. Comunque fondamentalmente parliamo di questa cosa. Ne parlo perché, per chi mi segue già su Instagram, è uno di quegli argomenti hot che mi viene chiesto spessissimo e soprattutto sotto a un reel che ho fatto di recente sono arrivati in una valangata di commenti dove io non riesco a dire di no però al mio bambino. Come si fa? Allora, innanzitutto dobbiamo capire se è il caso di dire di no oppure no. Questo come lo capiamo? Intanto chiediamoci che cosa sta vivendo il bambino in linea generale nella sua vita. Quindi è una fase tipo uno scatto di crescita? È una tappa dello sviluppo? C'è ansia da separazione? Sta imparando qualcosa a livello neuromotorio di molto importante? Scusate, ma mi crude il naso perché come vedete c'è qua sotto il gatto, io sono allergica ai gatti. Questo video sarà molto grattato. Ci chiediamo che momento emotivo sta vivendo il bambino. Non lo so, la mamma è rientrata al lavoro, l'inserimento al nido, lo spannolinamento, sta arrivando un fratellino, una sorellina, ci sono tanti momenti in cui ci può essere una sorta di riacutizzazione della richiesta del seno e dove è sicuramente molto più difficile dire di no perché è proprio un bisogno che esprime il bambino. Fondamentale capire questa cosa, cioè il bambino non ci chiede il seno per un capriccio, ma ci chiede il seno sempre perché c'è dietro un bisogno. Quindi cominciamo con una domanda. Perché mi sta chiedendo il seno proprio in quel momento? Qual è il bisogno che c'è dietro? Che cosa sta nascondendo il bambino con la sua richiesta? Nascondendo tra virgolette, nel senso che il suo modo di comunicare per avere una risposta estremamente veloce ed efficace a quel bisogno. Ho sete, ho fame, ho sonno. Il seno mi sfama, mi disseta, mi rilassa, no? Ho bisogno di rassicurazione perché non ci siamo visti per sei ore. Mi attacco al seno, vedo che tu mi coccoli, che sei lì vicina e ovviamente sono rassicurato. Quindi il seno è la panacea di ogni male. Non c'è nulla di male a rispondere ai bisogni del bambino con il seno. Ma può arrivare, potenzialmente arriva, un momento intorno all'anno e mezzo, due anni, eccetera, dove la mamma è un po' stanca di allattare. E si rischia di arrivare veramente all'esaurimento dove dici assolutamente non voglio più allattare. Come dico di no al mio bambino? A parte il fatto che ho fatto un altro video proprio sullo smettere di allattare, che lo linko qua e ti invito ad andare a vederlo se stai pensando a questa cosa, se pensi di voler smettere di allattare. Prima assolutamente guarda quel video, poi decidi. Detto questo, mettiamo che non vogliamo smettere di allattare, ma vogliamo dare delle regole, no? Mettere dei paletti al bambino e quindi dirgli di no. Prima assicuriamoci che il bambino sia ben riposato e che sia nello stato psico, emotivo e fisico di poter accettare e gestire la frustrazione derivante dal no del seno. Perché? Perché se io sono un bambino che mi sveglio 15 volte alla notte, anche 8, ok? Mi sveglio tanto la notte, quindi riposo poco. Di giorno vedo la mia mamma pochissimo perché dalle 8 del mattino alle 18 la sera è al lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Esattamente, io come faccio a dire no? Cioè, o meglio, come faccio a gestire io bambino, mia mamma che mi dice di no su questa cosa che per me è così tanto importante? Allora, sulla questione distanza lavorativa, perché la mamma lavora, siamo nel 2023, quasi 2024, tantissime mamme lavorano, devo dire anche, cara grazia, ok? Che abbiamo anche nei nostri spazi una carriera, io sono felice di questo, sei quello di cui sei felice tu, ok? E ci sono mamme che effettivamente non ottengono un part time o non lo vogliono e stanno via di casa tante ore. Per i nostri bambini è molto più difficile gestire, i nostri bambini è allattati al seno, molto più difficile gestire quella situazione, cioè gestire un no con una mamma che vedo poco, perché già ti vedo poco, non mi posso neanche attaccare alla tetta, quando ti vedo faccio proprio fatica, ok? Questione sonno. La questione sonno è sempre risolvibile, ragazze. I bambini c'è sempre un motivo se hanno un sonno alterato, c'è sempre un motivo se si risvegliano più frequente di quello che dovrebbero o se si risvegliano piangendo o se sono agitati. Premesso che ci sono dei momenti della vita, tutti quegli elencati prima, dove è normale che si intensificano anche i risvegli notturni, e ci sta, dall'altra parte la gestione dei risvegli, come vi avviene, cioè un risveglio che mi sveglio, mi giro, mi raddormento, o ho bisogno di stare attaccato tutta la notte, o mi sveglio piangendo, eccetera, eccetera. La differenza la fa la qualità del risveglio tante volte, ok? Quindi prima andiamo a sistemare il sonno, facciamo sì che il bambino sia bello riposato e felicione, cerchiamo di dare quanto più possibile contatto fisico e di presenza materna durante la sua giornata e la settimana, quindi se da lunedì al venerdì riuscirò a essere meno presente, sabato e domenica cercherò di intensificare con delle attività che possano aiutare il mio bambino a sentirsi rassicurato rispetto alla mia presenza. A quel punto faccio quello che abbiamo detto prima, cioè mi chiedo perché me lo sta chiedendo, ha fame, ha sete, ha sonno, rassicurazione? In base al motivo per cui me lo sta chiedendo, gli proporrò un'alternativa. Il bambino tante volte ha bisogno di sentirsi capito, è compreso e accettato, ma soprattutto ha colto nei suoi bisogni, ok? Non ha bisogno del seno, ha bisogno di sentirsi accolto, ok? E compreso. Quindi, se noi vediamo, vi do una tips pratica, che durante la giornata c'è sempre un certo orario in cui il bambino ha fame, in cui ciuccia proprio bello drenando il seno, ok? Poco prima dell'orario X, che avrò identificato facendo una sorta di diario della giornata per un tot di giorni, gli proporrò qualcosa da manzare. Che cosa? Qualcosa di svizioso, ragazze, cioè sapete quanto io sono attenta con l'alimentazione, ma in questi casi cerchiamo di prendergli un po' di gola ai bambini, perché la testa vince sempre su tutto. Quindi è più probabile riuscire a dargli pane e cioccolato fondente rispetto a dargli gli anacardi, magari, ok? Ne cediamo su qualcosa, flessibilità, mamme, flessibilità, ok? Quindi cercherò di anticipare come avere la borraccia dell'acqua sul comodino la notte e proporre prima l'acqua del seno, magari ha solo sete, ciuccia qualcosina di acqua, poi si gira e si addormenta a contatto, ok? Diamo delle alternative. Diciamo di no sì, ma con delle alternative. Non deve essere mai un no dove il bambino ci viene preso, portato via, distratto da qualcun altro, perché non gli insegniamo a gestire il no. Gli instigliamo in uno stato d'ansia dove la mamma e la tetta vengono costantemente allontanati. Quindi, se si è da sola in casa, non è un problema, ok? E anche se si è in due, non cambia niente, perché è la mamma che deve gestire quel no, perché la tetta è sua, non è del papà, non è della nonna, non è della babysitter, non è di nessun altro. È lei che deve comunicare con il suo figlio e dirgli facciamolo in un altro modo, ok? Non è il non te lo do, è facciamo quella cosa che ha scatenato il tuo bisogno, cioè rispondiamo al tuo bisogno in un altro modo, insieme. Mai lotta di potere. Io spero che questo video vi sia stato utile. Se avete bisogno di un supporto concreto, non fatevi problemi. Questo è il mio lavoro, per chi non lo sapesse. Trovate un sito internet che è www.irenavaticano.com in cui ci sono i miei servizi. Nel percorso un mese con Irene, quello che facciamo è andare a mettere in equilibrio il bambino, far sì che dorma, che sia tranquillo emotivamente, che abbia le sue rassicurazioni e poi andiamo a ristabilire un equilibrio anche in allattamento con delle regole, con un ritmo che sia giusto per te e che ti renda serena nell'allattare il tuo bambino e che non te lo faccia più vivere come uno stress. Se hai bisogno, tutte le info sono in Infobox. Grazie.